In ricordo della nonna Antonella Fiordelisi. L'influenza Antonella Fiordelisi oggi ha pubblicato un suo ricordo molto commovente sulla sua adolescenza, un ricordo della sua cara nonna paterna. La ragazza aveva un bellissimo rapporto con la nonna e dopo la scuola andava a trovarla. Le faceva compagnia e spesso dormiva con lei. La sua nonna era sempre profumata sul comò. Aveva sempre lo stesso profumo del color ambrato e che sapeva di cosa. La nonna amava questo profumo e lo metteva sempre e voleva che anche Antonella lo mettesse sempre. Antonella non ha più cambiato profumo e ha detto che questo è un modo per averla sempre accanto.